La provincia si adopera per una maggiore uniformità dei regolamenti di polizia rurale, così da limitare gli effetti delle differenze tra trattamenti fitosanitari consentiti in un comune e magari vietati in un altro. L'intenzione mia, nostra, di tutto il tavolo provinciale è di cominciare a fare un ragionamento che riunisca attorno a questo tavolo tutti i soggetti interessati e speriamo che siano tanti per quanto riguarda possibilmente un'agricoltura che pur nelle diversità ragioni intorno ad una armonia provinciale. I primi incontri farebbero ben sperare. Siamo riusciti a riunire quei comuni che hanno già adottato il regolamento di polizia rurale in un primo incontro, tutti presenti, i quali chiedono di armonizzare le modalità di intervento sul territorio. Tra gli obiettivi c'è anche quello di creare le condizioni per un progetto di medio e lungo termine. Sarebbe mia intenzione riuscire al più presto, sollecitato anche da diversi comitati, da associazioni, pensare ad un biodistretto della provincia e a un distretto del cibo che tenga assieme le particolarità rispettandole e anzi sviluppando le diversità che sono il succo e la bellezza di questa provincia e fare in modo che si possa far sì che il territorio diventi quel luogo che già è di promozione alta della provincia.